Bene, ciao da Simo3183 e adesso io vi ringrazio per i 200 iscritti, ve lo faccio anche vedere qua, adesso sono 208 addirittura, iscritti 208, comunque questo è il mio canale Bene, adesso ne approfitto anche per dirvi che le mie guide che farò in futuro, farò pokemon nero e bianco, prima uno in giapponese e poi uno in italiano poi ho in sospeso pokemon platino che continuerò quando avrò finito pokemon soul silver e forse farò pokemon verde foglie e smeraldo Vabbè, comunque vorrei fare un ringraziamento speciale ai miei amici di youtube, cioè Xmastersh196, Policrotta97, MrDarky60, dato 1992 Apple o Able, come volete voi XxMortalXX, Masterj97, MrFranC200, un 2000, non mi ricordo Poi... Poi poi... Lunirik... E... E... E basta... Bene, grazie ancora e... Adesso vi saluto... Ciao! Ciao! Ciao!